In uno di quei pochi momenti in cui non si combatte, i Madocter ne approfittano per rinforzare le strutture di difesa ormai provate dai continui combattimenti. I quattro generali addetti alla sorveglianza delle zone strategiche di Victor City controllano personalmente l'andamento dei lavori affinché gli ingressi della città siano ancora più inaccessibili. Intanto Elias, dopo aver scoperto l'esistenza della misteriosa sostanza Ixtron, sta concentrando tutti i suoi sforzi per cercare di svelare il segreto del progetto X. Quando attaccherete Santore fate attenzione a non distruggere la città. Attenetevi scrupolosamente a questi ordini. Potrete raderla al suolo come atto finale a dimostrazione della nostra potenza. Ai ordini! Elias ha ideato un piano eccezionale per catturare Gordian. Vi verrà illustrato con il visore temporale. Bene, maestà. Guardate! Ma è Gordian! Gordian! Guardate! 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 Guardate quella pantera, è sempre con Gordian È lei il fulcro principale del piano di Elias Ho cercato di capire la funzione e l'utilità di quella bestia e che cosa significa per Gordian Ne ho dedotto che tra i due esiste un interscambio di energia emozionale Energia emozionale, sei sicura? Anche lei, come Gordian, appartiene al genere dei Cheborg, con circuito computorizzato Prosegui, che intendi fare? Semplice, cattureremo la pantera e la useremo come esca Con quell'ostaggio sarà uno scherzo far cadere in trappola Gordian Ho paura che tu sottovaluti l'intelligenza di quella bestia In ogni caso è un rischio che bisogna correre È tutto pronto Anche se abbiamo cercato rifugio in Santore, non significa che siamo stati sconfitti La nostra vera battaglia deve ancora cominciare Dobbiamo restare uniti, avere fiducia nell'avvenire E vi assicuro che riusciremo a riprenderci Victor City E con essa la pace e la libertà che avevamo un tempo Sorellina, stai ascoltando il discorso oppure guardi Barry? Perché arrossisci? Sei sempre il solito, lasciami in pace Adesso ho capito tutto Lasciami, lasciami Non mi va che tu prenda in giro Saoria, hai capito? Aiuto! Presto fate qualcosa Che qualcuno mi aiuti per carità È terribile, il mio bambino Adesso calmati, che cosa è successo? Non riesco più a ritrovare mio figlio L'avevo lasciato a prendere il sole quando all'improvviso non l'ho più visto Come se il mio piccolo fosse sparito nel nulla Sta tranquilla, ci mettiamo subito la tua ricetta Ti riporteremo tuo figlio Sbrighiamoci Barry Bene, allora andiamo... A cercarlo! Ehi, aspetta! Avanti Clint, muoviti Che cos'hai da ridere? Va anche tu, muoviti Subito Clint, tu segui le tracce che vanno verso destra Io penserò a quelle di sinistra Arrgh! 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 Si stanno dirigendo verso il lago Che strano, le impronte finiscono qui Che strano, le impronte finiscono qui Che strano, le impronte finiscono qui Hop là, clink Oh, oh, oh Ehi, Dago Peggy e Dalf mi hanno raggiunto E' stato clink a ritrovare il piccolo Ehi, Dago La tua trappola ha funzionato, Elias Non poteva evitare di seguire i lupi Nei loro occhi c'è un dispositivo a onde ultrasoniche Che aumentano la sua aggressività Il tuo piano è formidabile Ora Barra scatturerà la pantera Clint, aspettami Dago Maledizione Vanno verso la città Torna indietro, clink Lasciatemi Devo prendere Gordian e salvare clink Per favore, Barry Digli di lasciarmi andare Capisco quello che provi, Dago Ma non posso permetterti di andare in città Correresti solo il rischio di farti prendere Dai ma doctor Ti prego, Barry Se gli dovesse capitare qualcosa Non me lo perdonerei mai Avanti, Buck Lasciami andare Lasciami andare, ti ho detto Tagliti di mezzo Fermati Daigo Daigo Non si rende conto che è una trappola Bisogna fermarlo Svelto ciocoma Blocca il dispositivo di lancio Ormai è troppo tardi Buck Metti in allarme le squadre speciali Andremo ad aiutare Daigo Sì, subito Daigo Inferimento e energie abitare Blocca il un'acqua Blocca Blocca il un'acqua Blocca il un'acqua Di una narrazione Belli Liberi Bianca Calle Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Dove sei? Grazie per la visione! Ci deve pure essere un'entrata da qualche parte che non sia controllata Trovatela! È in fretta! Aiuti! Clint! Stai bene! Clint! Tu non sei Clint! Stai bene! Stai bene! Clint! Dove sei? Clint! Dove sei? No! stink Adesso per te è la fine, Gordia Maledetti, cosa ne avete fatto di Clint? Avrai il tuo stesso trattamento Ti uccideremo, ma prima pagherai caro le umiliazioni che ci hai fatto subire Come vedi, Saxidare è andato secondo le previsioni Ora ci sbarazzeremo di lui una volta per tutte Iniziate! Questo è il nostro momento, Gordia La tua distruzione è la nostra vendetta E ora il colpo di grazia Passiamo all'ultima fase del piano Mettete subito in azione, Scheffler Bene, agli ordini Aiutami, Clint Ma cosa succede? 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 Attento, Clint! Spadassolare! Maledetto, te lo giuro Prima o poi riusciremo a distruggerti, Gordian Guardate, Gordian è salvo Li ha battuti anche questa volta Nessuno potrà mai separarci Vero, Clint?